Tariffa igiene ambientale. A Pagani diminuisce il costo del servizio con bollette più leggere. Per gli utenti è previsto un risparmio di 300.000 euro. Questa mattina la giunta comunale ha approvato la determinazione della tariffa di riferimento per le utenze domestiche e non domestiche. L'intero servizio relativo all'anno 2011 costerà 6.700.000 euro, circa 300.000 euro in meno rispetto all'anno precedente. Di conseguenza dunque anche le bollette della TIA saranno meno esose per famiglie, attività commerciali ed aziende. In un momento estremamente difficile per la gestione del ciclo dei rifiuti, ha dichiarato il sindaco Alberico Gambino, siamo riusciti a diminuire il costo del servizio e di conseguenza le bollette che arriveranno nelle case dei nostri concittadini. Tutto ciò grazie ad un impegno sempre costante al confronto continuo con il consorzio di Bacino e ai nostri concittadini che quotidianamente effettuano la raccolta differenziata. Questo risparmio, ha dichiarato l'assessore al bilancio Enzo Campitiello, è frutto di un lavoro serio e costante di tutte le parti in causa, amministrazione, consorzio e cittadini. Naturalmente siamo soddisfatti dell'obiettivo raggiunto perché arriva in un momento particolare per la gestione del ciclo dei rifiuti. Nel corso della riunione l'aggiunta comunale ha proceduto anche all'approvazione della proroga dell'affidamento del servizio di riscossione della TIA ad Equitalia. Inoltre il sindaco Gambino ha firmato insieme all'amministratore delegato di Ecoambiente una lettera indirizzata alle rappresentanze sindacali e al commissario straordinario del consorzio di Bacino Salerno 1, Fabio Siani, nella quale si definiscono le procedure per il passaggio del servizio dal consorzio di Bacino Salerno 1 ad Ecoambiente nell'ottica della provincializzazione del ciclo integrato dei rifiuti.